i trust you per andare ora agli ordini dello starter camisci numero 20 via cappucci a posto dietro partiti rockwinks dall'esterno frazione di apache kid di tunes of glory ma frazione velocissima rockwinks apache kid tunes of glory e zanobori i quattro che lottano con tunes of glory che forza su apache kid tunes of glory che passa su apache kid zanobori rockwinks poi in quinta posizione trust you precede l'altro terzetto con tunes of glory in vantaggio su apache kid all'esterno zanobori quarto in corda e rockwinks con all'esterno trust you sesto e katy goff quando si entra in dirittura poi jango in coda yakima si entra in dirittura apache kid si affaccia su tunes of glory che prova a ritornare in avanti con tunes of glory che allunga dal zanobori in corda pasch kid poi rockwinks che si prepara insieme a trust you katy goffs jango allunga i tutti con trust you che va su zanobori lo sospinge su tunes of glory all'esterno la rincorsa di jango e quella di katy goffs quattro a lottare tunes of glory zanobori trust you katy goffs e jango con tunes of glory che sta allungando da jango e katy goffs poi trust you tunes of glory che vince su jango e trust you vittoria di tunes of glory gavino sana per riccardo santini il peso era veramente quello da sparo nulla da dire tunes of glory 1.2 sul buono con 50 kg fa un solo boccone rivali stratosferico jango secondo terzo trust you quarto katy goffs quinto zanobori il camisci a gavino san riccardo santini e c'è la regia visto che lui di lavoro faceva il regista di bario lanfranchi è tutto grazie Il commissario ha nazionato la sirena per rivedere gli ultimi 200 metri, quindi le frazioni conclusive, soprattutto quelli al centro pista, saranno oggetto di attenzione da parte del commissario. Grazie Sandro, abbiamo rivisto una prima volta la frontale, non è il nostro lavoro ma ci sembra di poter dire che Gavino Sanna con questa inchiesta centri veramente poco. Gavino, non volevi dar troppa strada a tuo fratello in termini di vittoria, hai pareggiato il conto oggi, questo cavallo oggi era super con un peso davvero invitante. No sì, Riccardo mi aveva detto, il cavallo già trovato il terreno suo, il cavallo stava bene, mi aveva detto che ci credeva tanto. La tattica era studiata così? Sì sì sì, oggi avendo i chili un po' a favore abbiamo sfruttato un po' i chili. Gavino Sanna che vince in sella a Tunes of Glory, la ventottesima edizione del premio Enrico Camici, i colori sono quelli di Mario Lanfranchi, l'allenatore Riccardo Santini. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.